Buona serata, ben trovati insieme alla speciale CISL, assieme a Vincenzo Vita, ve lo presento, l'abbiamo già conosciuto, che è responsabile dei CAF Lombardia. Ben trovato Vita. Oggi parliamo di un tema particolare, interessante, si cerca di risparmiare qualcosina, la possibilità per voi è quella di chiamare in diretta e fare le vostre domande al numero che comparirà in sovraimpressione sul tema delle ristrutturazioni, cioè chi di voi, chi di noi, poi arriva all'inverno, quindi è quanto mai puntuale questo argomento, ha intenzione di sistemare casa, che vuol dire cambiare le finestre, rifare il cappotto, migliorare in qualche modo voi per il risparmio, voi per l'ambiente, insomma una ristrutturazione della casa ha la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni fiscali. Di questo parliamo, ci sono delle novità, Vita ci spieghi cosa è successo di nuovo. Diciamo innanzitutto che questa agevolazione non è assolutamente toccata dagli interventi previsti nel finanziario, nel decreto di stabilità di prossima approvazione o comunque nella bozza che circola a mezzo stampa, quindi non sarà oggetto di alcun taglio, quindi è un'agevolazione un po' particolare che godrà anche di questo ulteriore beneficio. Cosa riguarda? riguarda gli interventi di ristrutturazione sul patrimonio abitativo, quindi sul patrimonio edilizio abitativo è possibile fare degli interventi di manutenzione o di ristrutturazione o degli interventi finalizzati al contenimento del risparmio energetico e ottenere attraverso il sostentamento di queste spese un risparmio dal punto di vista fiscale. A quanto ammonta questo risparmio, ammonta in linea generale e per quanto riguarda la normativa nella sua ordinarietà al 36%, però c'è da aggiungere che da giugno dello scorso anno a giugno del prossimo anno, da giugno di quest'anno scusate, 2012 a giugno del 2013, le spese sostenute in questo arco temporale godranno del beneficio della detrazione del 50% in luogo di quella del 36%. Quindi speso 100 mila euro si porta a casa l'agevolazione del 50%. 50% che spieghiamo bene come si va a recuperare questo credito, cioè in quanto tempo e con quali scaglioni per chi ha fatto una spesa, supponiamo di 100, 100, fatto 100, 50... È una delle agevolazioni più complesse da gestire, quindi riguarda interventi di una certa corposità perché ristrutturare casa porta chiaramente a sostenere delle spese importanti. Intervento quindi di ristrutturazione edilizia, il risparmio come dicevo è del 50% a oggi, ci sono dei limiti e ci sono anche degli adempimenti oltre ad avere la titolarità per chiedere il beneficio. Quindi cominciamo a spiegare chi può innanzitutto ottenere questo vantaggio come titolare del beneficio. Il proprietario, il nudo proprietario, quindi chi ne ha la proprietà piena, ma anche chi ne ha solo la semplice nuda proprietà, l'uso fruttuario, il titolare di diritto d'uso a abitazione, ma anche l'inquilino, purché chiaramente l'inquilino abbia il permesso da parte del proprietario a sostenere queste spese. Quindi riguarda una platea di soggetti abbastanza vaste. Troviamo anche tra i soggetti che possono beneficiare di questa agevolazione anche il familiare convivente del proprietario o dell'uso fruttuario, quindi anche il familiare che non ha la proprietà, se si fa carico delle spese, può chiedere l'agevolazione. Come chiede l'agevolazione? Portando in dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta e potrà godere del beneficio del 36 o del 50% a secondo del periodo in cui è stato sostenuta da distribuirsi in 10 rate annuali. 10 rate annuali, quindi uno avrà un credito di fatto 100 mila la spesa, supponiamo, questi 50 mila euro che divise in 10 anni sono 5 mila euro di detrazione all'anno. Questa è la riflessione e il ragionamento. Perché ci ha spiegato, ma è abbastanza di esperienza comune, è opportuno fare queste richieste quando la spesa è un po' grande, un po' importante, perché invece su spese piccole quasi non conviene perché è talmente complesso e in qualche caso c'è anche da pagare qualcosa. No, c'è da aggiungere che alcuni elementi di complessità sono stati rimossi. Uno degli adempimenti più fastidiosi per il contribuente era la comunicazione preventiva, quindi un modello che doveva essere spedito obbligatoriamente all'agenzia per segnalare che stavano iniziando i lavori. Ecco, questo modello è stato rimosso dallo scorso anno, quindi non è più necessario che sia inviato all'agenzia dell'entrata alcuna comunicazione. Gli altri adempimenti obbligatori che sono rimasti in essere, che sono quelli principali, sono le modalità di pagamento, quindi gli interventi realizzati con l'obiettivo di ottenere questa agevolazione devono essere pagati obbligatoriamente mediante bonifico bancario, con esclusione di eventuali oneri di urbanizzazione che sono spese particolari, però tutte le altre spese, a partire da muratore, dall'idraulico o dall'elettricista, devono ricevere il pagamento mediante bonifico bancario. Ovviamente per lasciar traccia dell'avvenuto pagamento e della spesa e per poter poi giustificarne la richiesta, no? Funziona così? Sì, sì, sì. La modalità di pagamento col bonifico bancario dà due elementi. Uno è che attraverso questi pagamenti la banca applica per legge una ritenuta oggi del 4%, quindi si paga 10, si versa il 4% sui 10 e viene poi recuperato in sede di dichiarazione dei redditi a cura ovviamente dell'artigiano o dell'imprenditore che effettua i lavori. L'altro aspetto importante è che attraverso questi pagamenti l'agenzia riceve informazioni dalla banca su queste tipologie di transazione ed è in grado quindi di fare anche delle valutazioni di tipo economico sulle detrazioni che verranno richieste. Ecco, una detrazione come dicevo che è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1997, infatti la legge originaria è la 449 del 1997 e nei vari anni che si sono susseguiti è stata sempre reiterata, si parlava sempre di anno successivo, anno successivo come termine ultimo e ultimamente invece è stato fatto un passaggio abbastanza significativo, è stato introdotto all'interno del nostro tour come una spesa detraibile standard e quindi non necessita di ulteriore proroghe per gli anni a venire. Ci sono le domande dei limiti magari di reddito o di patrimonio, cioè uno deve avere un reddito sotto una certa quota per ricevere di più in questa agevolazione fiscale oppure no, pure vale per tutti, quale che sia la spesa e quale che sia il reddito della persona che lo richiede o il patrimonio? Beh, limiti di reddito non ce ne sono, l'unica regola che è quella cardine delle agevolazioni e delle detrazioni regolamentate dalla norma di legge è che la detrazione non può superare le imposte dovute, quindi ci si potrebbe ritrovare se la spesa è importante in una situazione di incapiente. Per fare un esempio su 48 mila euro la rata che si va a chiedere per ogni singola annualità è di 2.400 euro, la metà, il 50%. Il limite di spesa detraibile è fissato per il periodo transitorio giugno 2012, fine giugno 2013 a 96 mila euro, quindi per gli interventi fino a 96 mila euro possono essere chieste queste agevolazioni attraverso la Qualora se andasse sopra il tetto è quello, cioè non si va oltre? Sì, è fissato dalla legge questo limite massimo di spesa detraibile, nel caso in cui la spesa fosse superiore non potrebbe beneficiare dell'ulteriore quota. Ecco, le domande da vostra esperienza ai CAF, Lombardi ma non solo, sono ancora in questo momento così di difficoltà, insomma molte famiglie ci raccontano, raccontiamo anche noi hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, è un momento in cui appunto fare una spesa anche sistemare, che so io, le finestre qualora fossero ammalorate o bisogna mettere dei sistemi per trattenere un po' il calore, il caldo e il freddo eccetera, pur consapevoli del risparmio che ne consegue, magari uno aspetta un po'. È da qui che il governo ha detto vabbè io rimetto quei soldi, tanto magari sono in pochi a chiedermeli. Sì, non è proprio così perché spiegato quali sono i soggetti che possono godere dell'agevolazione c'è da precisare quali sono indicativamente gli interventi che possono essere oggetto di agevolazione. Gli interventi possono riguardare innanzitutto sia la singola proprietà, quindi l'abitazione individuale del contribuente, che le parti condominiale. Sulle parti condominiale sono ammessi a beneficio, quindi detraibili, anche le spese di manutenzione ordinaria e quindi anche nell'ampito condominiale se sono sostenute delle spese per manutenzione piccola o grande, sommandole tra loro possono dare chiaramente dei vantaggi in dichiarazione dei redditi e quindi ottenere questi risparmi. Devono essere spese in cui la manutenzione è finalizzata a un risparmio energetico o no? Anche rifare le scale? Sì, 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 ma anche nell'ambito delle abitazioni. Gli interventi sono classificabili per macrotipologie e poi sono regolamentati ovviamente dalla normativa edilizia. Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione intesi come tale dalla normativa edilizia, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risalimento conservativo, oltre alla manutenzione ordinaria che però è ammessa esclusivamente sugli interventi di tipo condominiale. Condominiale e non dell'acerto. Poi in aggiunta a queste macrotipologie sono state inserite altre tipologie di interventi tipo la collocazione di un antifurto, quindi interventi tese a evitare l'inclusione da parte dei terzi e dà la possibilità di ottenere anche in questo caso il risparmio previsto del 50% o del 36% a superamento della data che ho appena precisato. Oppure l'altro intervento potrebbe essere quello finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, quindi ci sono... Perché magari nel condominio è necessario, poi la popolazione si sa invecchia e allora mettere magari uno scivolo che può essere d'aiuto per molti, ecco che qui si può risparmiare, detrarre qualcosina. Si detrae, quindi si ottengono dei risparmi attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Breve interruzione, pubblicità, fate le vostre domande al numero in sovraimpressione, Vita vi risponde, magari per esperienze di condominio, di casa e qualora aveste una ristrutturazione pronta a partire, ci sono buone notizie, quindi il 50% di detrazione spalmati in 10 anni, ma sempre il 50% è tra poco. Stiamo parlando con Vincenzo Vita del CAF di qualche agevolazione, buone notizie, insomma perché fino al 2013, al giugno 2013 si parla del 50% qualora si facciano delle ristrutturazioni di manutenzione degli impianti, risparmi energetici o evitare insomma di sprecare energia in più nella propria casa, manutenzione ordinaria invece anche per i condomini. C'è qualcuno di voi che ha iniziato a telefonare, il numero in sovraimpressione per una domanda, pronto chi c'è in linea? Pronto, tocca a lei? Non c'è più, va bene, adesso richiamiamo. Una domanda che ci facevano i nostri telespettatori fino a qualche tempo fa riguardava le valvole termostatiche per esempio, c'era stata, si ricorda, grande polemica perché la regione Lombardia aveva detto è obbligatorio metterle, poi c'è stata una deroga perché queste valvole costano fino a 100 e passa 150 euro a calorifero e quindi una bella spesa più quello che viene a farti il lavoro, questa spesa per esempio sarebbe detraibile? Sì perché rientra senz'altro tra gli interventi che producono un risparmio energetico e quindi sarebbe ammesso a beneficio, di conseguenza si potrebbe ottenere tranquillamente questo vantaggio predisponendo tutti gli adempimenti previsti che, lo ripeto, rispetto a come era previsto alcuni mesi fa, non è più necessario che il contribuente invii la comunicazione preventiva che ha fatto scivolare sulla buccia di banana e tante persone perché noi ovviamente poi vedevamo nella stragrande maggioranza dei casi la documentazione a consuntivo in dichiarazione dei redditi ma è sufficiente prestare attenzione agli adempimenti conseguenziali, quindi pagare con bonifico bancario dedicato. Che sarebbe una bella cosa, cioè supponendo una casa grande con dieci caloriferi, una casa magari un po' vecchia, vuol dire che la metà vengono rimborsati negli anni, in dieci anni si ottiene il recupero. In dieci anni recuperati. C'è la telefonata? No, non ancora, va bene, adesso la recuperiamo. Diceva anche gli antifurti, per esempio, gli antifurto sono detraibili anche per le case private perché si ritiene una miglioria dell'edificio. Sì, perché la norma nelle varie evoluzioni che ha avuto dal punto di vista normativo nel corso degli anni è stata aggiornata aggiungendo alcune tipologie di interventi e quella degli antifurti e quella degli interventi finalizzati a evitare ad esempio anche gli incidenti domestici, quindi la sostituzione ad esempio di uno scaldabagno con uno che abbia dispositivi di sicurezza appropriato è un intervento che... Rientra, sempre il 50%, su quello... Oggi il 50%. Oggi il 50%. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Dica. Un'informazione. Sì. Sulla causale del bonifico bancario, cos'è che devo scrivere? La causale del bonifico bancario, la risposta è molto utile, deve contenere, pagamento di spese per ristrutturazione edilizia, la citazione normativa, la legge chiaramente la 44997 e successive modifiche e serve questa citazione nella causale a far sì che la banca possa applicare poi il famoso prelievo del 4% sul pagamento che il contribuente fa all'artigiano o all'impresa. Cioè la persona deve scrivere, che so, ristrutturazione delle finestre di casa, bonifico per... Non è necessario entrare nello specifico dettagliando la tipologia di spesa, ma è sufficiente che sia citata la norma e che si faccia riferimento quindi alla norma sulle ristrutturazioni edilizie, in quanto la banca poi su quel pagamento, su quella transazione, applica un prelievo fiscale del 4% che versa direttamente all'arario. Quindi 449-97. 449-97, sì, e successive modifiche. Interessante. Ci diceva anche che parlando di antifurti, di migliorie di casa, questa detrazione vale anche per chi magari è al box lontano casa e vuole mettere un antifurto nel box. Ci sta come soluzione, no? Sì, perché gli interventi ammessi a beneficio possono riguardare sia l'abitazione che le relative pertinenze. Riguarda l'abitazione ovviamente a uso abitativo e il patrimonio edilizio esistente, quindi le nuove realizzazioni non sono ammesse a beneficio, tranne che in una situazione che è quella relativa alla realizzazione di box di tipo pertinenziale. L'acquisto di un nuovo box da un'impresa di tipo pertinenziale fa scattare anche in questo caso l'agevolazione fiscale oggi del 50, poi diventerà del 36 da giugno in poi. Preciso che per quanto riguarda l'acquisto di box pertinenziale è necessario che ci sia l'atto di rogito che comprova la data d'acquisto oppure il preliminare registrato antecedente ai pagamenti che verranno effettuate, sono ammessi a beneficio non l'intera spesa per l'acquisto del box ma solo quella necessaria alla realizzazione dello stesso, quindi escluso il costo ad esempio dell'area o l'eventuale utile di impresa o altri costi accessorio. Però lì sono cifre interessanti. Le faccio un'altra domanda, se una persona per esempio nel proprio appartamento deve rifare l'impianto idraulico e quindi migliorare le tubazioni e tutto quanto, per fare questo sarà necessario rifare anche il pavimento, quindi spacca il pavimento, metti i tubi nuovi e rimetti il pavimento. La detrazione riguarda solo la spesa dell'impianto o anche quella del pavimento, del parquet, delle piastrelle? Qui è molto semplice da spiegare, nel senso che il rifacimento del pavimento nell'ambito dell'abitazione civile non sarebbe ammesso a beneficio in quanto è considerato dal punto di vista edilizio una manutenzione ordinaria. I geometri chiaramente sarebbero più precisi di quello che lo sono io adesso, però in linea generale questa è la classificazione che viene data. Sostituendo gli impianti, l'intervento di sostituzione degli impianti fa assorbire anche la manutenzione ordinaria che è conseguente e quindi tutto l'intervento rientra poi. Ah, quindi non c'è la distinzione. Non viene fatta una distinzione in questo caso a condizione quindi che ci sia un nesso tra le due attività. Certo, evidente. Quindi tradotto per semplificare, meglio chi dovesse fare delle migliorie di casa, fare tutto insieme cercando di, ovviamente le cose devono essere legate, però a quel punto la detrazione sarebbe più ampia. Pronto chi c'è in linea? Ah, pronto, sono Mario da Rò. Pronto? Rò, Mario, ben trovato, come sta? Grazie. Senta, volevo fare una domanda a signora, io dovrei fare la cucina cambiando pavimento, tubi, scarico, carico di acqua e compagnia beve e posso... Sì, sì, l'intervento di ristrutturazione, tranne i mobili che non ci sono più, c'è stato un periodo in cui anche i mobili erano messi a beneficio, adesso no, certo. Ecco, l'intervento di ristrutturazione della cucina con rifacimento ovviamente degli impianti perché se cambiasse solo le piastrelle rientreremmo nel ragionamento precedente di manutenzione ordinaria è ammesso a beneficio, quindi se è un intervento globale di rifacimento degli impianti complessivamente e poi conseguente anche pavimenti e piastrelle è ammesso interamente a beneficio. Ha sentito Mario? Senti, mi sono scordato prima, è cambiando il portoncino d'ingresso, mettendolo con l'antiporto diciamo, non l'antiporto, ma il portoncino d'ingresso. La porta blindata, lei deve mettere una porta blindata, giusto? Sì, la collocazione di un portoncino blindato è ammesso a beneficio perché rientra nella sfera degli interventi tesi a evitare l'intrusione da parte dei terzi nella propria proprietà. E anche perché in qualche caso anche le nuove porte, adesso mi dica se dico una fesseria, ma le nuove porte sono a tenuta anche di temperatura, caldo, freddo eccetera, quindi rientrano in quegli interventi come per le finestre migliorativi anche a livello energetico. Si potrebbero rientrare anche nella sfera del risparmio energetico. Perché hanno delle classi, come le case, che adesso è obbligatorio. E in tutto questo ovviamente immagino detrazione maggiore qualora si riuscisse a, o meglio sempre il 50% del tetto, però l'obiettivo è quello di migliorare la resa energetica delle case proprio per far crescere la classe energetica, si dice. Quando invece, quegli interventi invece che per esempio vanno a mettere i pannelli solari sul tetto non rientrano in questo tipo di agevolazioni? Queste sono ristrutturazioni. La produzione dei pannelli solari per la produzione d'acqua calda rientra nell'agevolazione del 55%. Sono quelli propriamente energetici, no? Non sono quelli delle strutture. Sì, sì, è un'altra agevolazione, anche questa produce un vantaggio del 55% distribuito sempre su 10 anni. È un po' diciamo un'agevolazione cugina del 36%. La normativa che ha fatto storie rispetto alle agevolazioni sulle strutturazioni è quella del 36%. Successivamente è stata introdotta quella sul risparmio energetico, ma ha preso tante di quelle che erano gli aspetti, diciamo, procedurali dalla normativa del 36%. Quindi è un po' una cugina. E questo, ricordiamolo, lei l'ha messo in testa il discorso, ma lo ribadisco, è solo per le case, per le abitazioni, quindi non per i laboratori, le aziende o quant'altro. Solo per le case di abitazione. Quella del 50% si riguarda esclusivamente l'abitazione dell'inizio esistente e non quelle nuove. C'è tempo per un'altra telefonata. Buonasera, chi c'è in linea? Buonasera. Pronto? Sì. Buonasera. Sì, buonasera, sono Pietro da Pariscia. Dica. Io volevo chiedere un'informazione. Sì. Dovessi ristrutturare un'abitazione? Sì. E sapere i muri esterni, le ante, tutto quanto, viene messo come ordinario o come straordinario? Se fa una ristrutturazione di quella natura dove va a incidere sui muri esterni, una ristrutturazione globale e anzi ci sarà poi da verificare col tecnico, il geometra o altro soggetto abilitato, se necessita di autorizzazione edilizia particolare, perché non dimentichiamolo che gli interventi edilizzi sono regolamentati dalle leggi e in alcuni casi è necessario presentare la dia o la scica, come viene chiamata adesso, agli uffici preposti. Però rientrerebbe anche perché magari fa un cappotto alla casa e quant'altro. Un intervento ammesso. Uno degli aspetti importanti da dire su questa agevolazione è che ovviamente è un'agevolazione che dà i benefici su più anni. In caso di cessione del bene chiaramente bisognerà chiedersi cosa fare. Ecco, la normativa fino a qualche anno fa prevedeva che con l'atto traslativo si trasferiva anche la detrazione delle rate rimanenti. Dallo scorso anno è stata data la possibilità a chi vende e chi compra di decidere chi dovrà continuare con l'agevolazione. Lasciare agevolazione e casa al nuovo proprietario oppure se portarsela dietro. Oppure se portarsela dietro per i rimanenti anni fino al completamento del periodo. Grazie Vincenzo Vita, responsabile dei CAF della Lombardia, i quali sono ovviamente a disposizione con l'aiuto della CISL per rispondere a tutte queste domande. Grazie a lei, voi potete, se lo vorrete, rivederci su internet, sul nostro canale YouTube di Telenova, cercateci anche sul sito di Telenova o della CISL. Ringrazio Vita, vi rimando all'appuntamento sempre con la CISL invece lunedì, ora 18.30. Parliamo come sempre a lunedì di pensioni, al mercoledì invece un approfondimento per quanto riguarda gli altri aspetti che segue la CISL. Grazie a voi e buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.